oh mio dio cos'ho fatto mio dio cos'ho fatto e benvenuti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video sono di power 0 9 ragazzi oggi siamo ritornati su fortnite per fare la challenge che avrete dovuto scegliere voi quando ho pubblicato questo short devo dire che in un paio non l'avete commentata questa challenge vi ricordo ancora ragazzi di iscrivervi al canale, lasciare a like, condividere e attivare la campanellina per non perdervi nessun altro epico video e possiamo ragazzi procedere per chi ha scelto la rotellina del contest il vincitore di questa challenge ma prima di continuare col video saluto Eros, Antonella K, Roxella Roxy e Fata Morgana che loro ragazzi hanno commentato in questo video vi ringrazio moltissimo ragazzi se volete essere salutati nel prossimo video commentate con hashtag ho capito e quindi ragazzi possiamo procedere col vincitore del contest che è 3, 2, 1 Antonella K, Canada Pesca Challenge Canada Pesca Challenge? Va bene andremo subito a farla vi ricordo ancora ragazzi di iscrivervi al canale, lasciare a like, condividere e attivare la campanellina e lasciate 5 like se volete che faccio un'altra challenge del genere che faccio una short voi scegliete la challenge e faccio lo stesso procedimento che ho fatto qua bella ragazzi ok ragazzi eccoci qua sul bus allora non so ragazzi dove potrei fare la canale Pesca Challenge perché non è come la vecchia mappa che c'era qua l'isoletta però c'è una simile che è questa qua l'ho scoperta io in arena senza volere e tra l'altro ragazzi il primo video che faccio da quando è ritornata Tilted Towers si ragazzi è ritornata Pinnacoli Pennenti mamma mia ragazzi quanto mi è mancata questa città commentate ragazzi se anche voi mi è mancata questa città eccoci qua ragazzi in quest'isola bellissimo ma guardate ragazzi quante pozze ci sono allora mi ricordavo bene allora mi... nooo che sfortuna raga c'era la MK7 qua però io raga in teoria in una canale Pesca Challenge le cure che trovo nelle ceste o robe del genere le posso prendere quindi ecco questa qua non è una cura questa è una cura molto bene siamo anche vicino alla save benissimo però mi servirebbero anche le armi che mi ferrebbero molto male ah devo trovare armi oh è già un inizio un buon cecchino possiamo tra virgolette difenderci nooo ho preso un pillo pescato oh quanti flopper oh no ragazzi pensavo fosse un'arma epica mannaggia vabbè ci sta lo stesso ci sta lo stesso ci sta lo stesso ragazzi guardate quante pozze ancora abbiamo ah il pesce e peperino oh mamma mia raga ho visto un attimo una roba oro questo ragazzi quando gli pesco le allucinazioni oh un altro pesce e peperino sì però voglio armi oh niente non le trovo raga non sto trovando armi incredibile eccolo lì raga guardate basta chiamarle e fortnite vi ma non ci voglio credere raga ma io sono fuori safe non ci voglio credere no ecco ragazzi madonna ro sono un pirla ma io non ci credo cioè stavo andando letteralmente fuori safe dai 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 che ce la faccio prendere sta lambo dai 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 non ci credo ma non dai ma veramente non riesce a spaccare una pietra c'è non ci credo raga sta lamborghinetta rocca non riesce a fare una collina oh ma raga c'è anche un tizio mannaggia mi scappa questo no 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 ragazzi devo pushare oh push c'è un auto più veloce di lui lo scuola a giungere dov'è 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 ci vuole prendere lama dai non ci credo dove è andato oh ma è un pollo scambiato seriamente un pollo per una persona ottimo andri dai ma dove cavolo è andato ragazzi giuro ho visto una cosa qua tipo che quando il lama sta per scomparire c'è una viene teletrasportato nel paradiso dei lama sopravvissuti bu eccolo là non capisco dove sta sparando è là nel box provo a pusharlo vai 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 oh però qua c'è una bella pozza eh però no prima o raga pusharlo io che non riesco a blindare mamma mia cattivo scuolo non si fa cattivo scuolo raga non ho capito raga se era un botto era veramente una persona vera vabbè la chi li tezza oh ma siamo già in dieci oh raga vabbè dato che ci siamo pesce scudo potrei anche farlo no dai no ragazzi siamo in dieci veramente oh meglio per me ecco però il primo pesce dato che non posso tenere non me lo faccio perché ho sparato oh ma perché vabbè eh il primo pesce però non è male io devo ancora scoprire il tetta tower check sì ma non è possibile che non riesco a trovare una R una R non il cecchino una R una mitraglietta ecco già meglio ma non basta ancora vabbè lasciamo ragazzi la nostra canna da pesca addio però ci sono ancora un paio di pozza allora no wait a minute adesso il cecchino che tanto boh provo a vedere qua che ci sono un paio di pescata ancora è un bot è un bot oh ma vabbè dai anch'io raga però con sta pistola non è che c'è una bella mira incredibile però ho i suoi colpi raga li devo prendere del mitra sono gli unici colpi che mi mancano oh raga siamo in 5 mamma mia quanto è bella pinnacoli faccio un bello screenshot oh si fightano mamma se lo beccavo raga la devo pushare la devo pushare per forza sono costretto no anzi no non lo pusho raga vi dico perché voglio voglio rimanere raga nel 2v2 è nel 2v2 si magari è l'1v1 me la voglio giocare a questa partita dove sta andando aspetta ma perché vado in alto mi spacco l'arognatela e cade tanto però raga approfittiamone per far male perché non ho niente di mazza a parte la pietra sono messo abbastanza bene eh in realtà sono full però va bene lo stesso oddio raga è vero che qua c'era il piano non ci credo c'è il piano di sotto non ci credo raga chi se la ricorda questa entrata mamma mia chi cavolo raga se la ricorda oddio io si me la ricordo non ci credo non ho trovato cosa io vado al cecchino io mi chiedo raga se non gli altri che sono in safe qua sono camperati oh attenzione ci fightano raga voglio 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 ragazzi se non c'è questo che cavolo è andato no ecco che arriva l'altro quello lì infame buono con lit ma una full box scappato non ci credo no se c'è una mitraglietta sono un po' morta oh mio dio cosa ho fatto oh mio dio cosa ho fatto dai dai raga uno uno dai 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 raga concentrazione concentrazione perché ho fatto così dov'è che cacchio è questo oh l'ho visto no l'ho visto non so se si stava abbiamo fatto un po' di danno poi almeno mi build ovviamente che cosa sto sto facendo e andiamo raga a vincere una partita clamorosa ragazzi GG raga una vittoria a dir poco incredibile mamma mia raga ho vinto facendo la challenge della canna da pesca Antonella K porti allora tantissima fortuna grazie mille per avermi fatto fare una vittoria reale qua sul mio canale vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale lasciare like condividere attivare la campanellina per non perdere un altro video e ragazzi mamma mia che partita abbiamo fatto tra l'altro la prima partita che ho fatto di oggi volevo dire tra virgolette ovviamente ragazzi andate però nel negozio oggetti non mettete il codice scs per stavolta ma mettete il codice andri mettete il codice andri power 0 9 fate accetta vi dirà creatore non trovato ma raga funziona al 100% dai raga supportatemi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao